In primo piano l'inchiesta sulla sanità a Lucana, il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari al professor Meale, accusato di aver favorito la carriera del figlio del direttore ASU. Prima conferenza di servizi per riesaminare l'AIA del centro Oli di Vigiano, prosegue il lavoro della regione con l'Istituto Superiore di Sanità. Vertenza ex Luccioni, si apre uno spiraglio per gli ex lavoratori affidato all'Opera Don Uva. Cresce il numero dei visitatori nei musei lucani, secondo i dati diffusi dal MIBAC sono stati oltre 108 mila. In conclusione il Maratea Film Festival ci ha attesa per la serata finale con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria per Sofia Loren. Buon pomeriggio dalla nuova TG. In primo piano l'inchiesta sui concorsi truccati. In sanità il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari al professore dell'Università di Bari, Agostino Meale, accusato di aver favorito la carriera universitaria del figlio dell'ex commissario dell'ASM, Pietro Quinto, in cambio di consulenze esterne. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Il professore Agostino Meale torna in libertà. Il Tribunale del Riesame di Potenza ha infatti revocato gli arresti domiciliari per il docente dell'Università di Bari coinvolto in uno dei filoni d'inchiesta sulla sanità lucana. In particolare a Meale la procura di Matera contesta di aver favorito la carriera universitaria del figlio dell'ormai ex commissario dell'ASM di Matera, Pietro Quinto, in cambio di una serie di consulenze legali esterne affidategli proprio dall'azienda sanitaria materana. Il Riesame ha inoltre annullato l'obbligo di dimora Roberta Fiorentino, la cui posizione riguardava la vicenda relativa all'affidamento del servizio di trasporta a chiamata dei pazienti dell'ASM, ovvero il filone dal quale poi è partita l'intera inchiesta che ha svelato i quattro concorsi che sarebbero stati falsificati per favorire candidati segnalati dal governatore lucano Marcello Pittella ai domiciliari dallo scorso 6 luglio con l'accusa di falso e abuso d'ufficio in concorso. Il Riesame ha ultimato la discussione di tutti i ricorsi presentati dalle difese delle 30 persone raggiunte da misura cautelare nell'ambito dell'operazione denominata il sugello. Ad oggi sono soltanto 5 le misure cautelari decadute. Dopo il deposito delle motivazioni il cui termine è fissato in 45 giorni, le difese degli indagati ancora sottoposti a misura potranno presentare ricorso in Cassazione, ma l'udienza davanti alla Suprema Corte non si svolgerà prima di metà settembre. Incidente mortale ieri sera sulla strada provinciale 53 che collega Gravina a Matera. Un uomo e una donna, marito e moglie originari di Gravina sono morti. Un altro uomo è rimasto ferito nell'impatto secondo una prima ricostruzione. I mezzi sarebbero scontrati frontalmente. Ferito alle gambe il conducente della seconda vettura, un giovane lucano che era alla guida di un pick-up. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Matera. Prima conferenza dei servizi per riesaminare l'aia relativa ai gas in atmosfera nel centro Oli di Vigiano. In parallelo prosegue il lavoro della regione con l'Istituto Superiore di Sanità. Ci dice di più Michelangelo Russo. Si è tenuta la prima conferenza di servizi finalizzata al riesame dell'aia per le emissioni in atmosfera del centro olio Valdagri dopo il riesame parziale del 13 aprile scorso che ha visto la sistemazione dei doppi fondi dei serbatoi, delle reti interrate, delle linee contenenti olio e il relativo piano di monitoraggio e controllo oltre all'adozione di un sistema di gestione ambientale. Questo secondo riesame, come annunciato dall'assessore Pietrantuono, presterà particolare attenzione alla verifica del piano di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera dell'intero impianto e all'integrazione con il monitoraggio e controllo delle torce. Il procedimento avviato consentirà di verificare la rispondenza e l'adeguatezza del piano di monitoraggio e controllo in relazione alla specificità dell'impianto e agli impatti sulla matrice aria, inoltre di avere un sistema di controllo sul gas flaring che contribuisce alle emissioni in atmosfera e influisce sulla qualità dell'aria e di integrare il monitoraggio sulle emissioni odorigine e fuggitive, favorendo un'analisi del quadro emissivo del COVA determinante per la valutazione degli impatti e delle ricadute al suolo dei principali inquinanti immessi in atmosfera. Oltre al riesame in corso, prosegue il lavoro con l'Istituto Superiore di Sanità che prevede nel mese di settembre un secondo tavolo di confronto per giungere alla definizione del miglior sistema di tutela delle emissioni in atmosfera con particolare riguardo ai composti non metano, alle emissioni odorigine e alle fasi di transitorio. In ogni caso, nel mese di settembre sarà calendarizzato un incontro con le associazioni per raccogliere suggerimenti e proposte, oltre a quelle già pervenute, proseguendo nell'azione di massima partecipazione, evidenzia Pietrantuono, già posta in essere dal Dipartimento Ambiente. Sospensione dell'attività lavorativa, oltre ad una sanzione pari a 15 mila euro. E quanto è stato combinato ad un tatore di lavoro di un'impresa edile di Vigiano, colpevole secondo le forze dell'ordine, di mancata formazione delle maestranze, di mancata registrazione delle stesse. Lavoro nero e violazione delle norme sulla formazione in materia di salute e sicurezza sono le irregolarità riscontrate nell'impresa dai carabinieri di Vigiano. Sono stati depositati in procura a Lago Negro i risultati dell'esame autoptico effettuati sul corpo di Giuseppe Sanzanelli dopo oltre sei mesi dall'autopsia. Un elemento utile alla procura per fare chiarezza sulla tragica morte del giovane 26enne che si trovava con i genitori a Sant'Arcangelo fino al 23 dicembre scorso, giorno della sua scomparsa dall'abitazione dei nonni. L'ipotesi che si delinea sembra portare al suicidio. Giuseppe Sanzanelli si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto del pozzo. La sua morte sarebbe avvenuta subito dopo la scomparsa nel giro di una mezza giornata. La signora Lucia, madre del giovane, ha tuttavia sempre sostenuto che il figlio sia stato ucciso. Adesso toccherà alla procura fare chiarezza sulla vicenda. Vertenza ex Luccioni si apre uno spiraglio per gli ex lavoratori affidato all'Opera Donuva. Sentiamo Alessandro Panuccio. Lo spiraglio per gli ex lavoratori dell'Istituto Clinico Lucano potrebbe essere quello di essere assorbiti da un'altra struttura, il Donuva. È quanto è stato ipotizzato nel tavolo in regione tra la delegazione dei sindacati CGL Cisleville e i lavoratori che hanno avuto modo di interloquire col direttore generale dell'ASP De Fino. Nel corso della riunione è stato puntualizzato il conteggio esatto delle unità rimaste senza lavoro, tra chi ha avuto la possibilità di trasferirsi altrove in quanto vincitore di concorso e chi è andato in pensione, delle 30 unità iniziali licenziate oggi ne restano 26, di cui una a tempo indeterminato e tre prossime alla pensione. Intanto si è deciso per un nuovo tavolo che si terrà martedì 1 agosto tra i vertici del Dipartimento regionale e quelli della ex Casa Divina Provvidenza Universo Salute che dovrà valutare l'eventualità di assorbire a suo interno i lavoratori della ex Luccioni, Divina Provvidenza che già si qualifica in parte come RSA Residenza Sanitaria Assistita. L'Istituto Clinico Lucano, lo ricordiamo, è da tempo al centro di una vicenda giudiziaria per problemi di gestione e carenze strutturali che ha comportato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività. Da allora è stato allestito un presidio sotto la regione, presidio che oggi resta ancora in piedi. E torniamo alla cronaca. I carabinieri della Compagnia di Lago Negro nel pomeriggio di ieri hanno denunciato due persone per furto con destrezza. In particolare i militari hanno deferito all'autorità giudiziaria un rumeno incensurato ed un italiano gravato da alcuni precedenti di polizia, poiché si sono resi responsabili di furto aggravato in concorso e per aver asportato un telefono cellulare dall'interno di un esercizio commerciale del luogo. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nuova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito noveimpiantipotenza.eu mail info chiocciola noveimpiantipotenza.eu Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Complesso Saloni da Barba e Matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni, in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud. Dalla Mazzurca alla Polca, dalla Quadriglia alla Tarantella, un'opera sulla grande tradizione musicale lucana. Ritmi Immortali da ascoltare ovunque, Complesso Saloni da Barba e Matrimoni, il nuovo lavoro di Graziano Accinni, in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg. Sono 17 i consiglieri comunali di maggioranza che garantiscono il numero legale al sindaco della città dei Sassi, Raffaello De Ruggeri. Ieri la prima riunione della Sise dopo l'ufficializzazione della nuova giunta. La maggioranza sembra ridotta al minimo e senza sconto da parte di chi non ne fa parte. Non partecipano infatti al voto i componenti dell'area antezza. L'arrivo del socialista alla macchia garantisce il numero legale, anche se dai socialisti filtra una posizione critica rispetto alla nuova giunta. Intanto in apertura è toccato al primo cittadino difendere il nuovo esecutivo. Si corre il rischio di vampirizzare la città, ha detto De Ruggeri. Non c'è stato nessun inciucio, né si è trattato di un ribaltone. Rappresentanza e governabilità sono state le nostre priorità. Voltiamo pagina. Cresce il numero dei visitatori nei musei in Basilicata. Secondo i dati diffusi dal MIBAC, sono stati oltre 108.000. Un buon risultato tenuto conto dell'imminente stagione estiva. Il servizio è di Luigi Santopietro. Il numero di visitatori nei musei e siti archeologici della Basilicata tra gennaio e maggio di quest'anno, secondo i dati diffusi dal MIBAC, sono stati 108.504. Un buon risultato tenuto conto dell'imminente stagione estiva, che è quella che determina i flussi maggiori di visitatori, che nel 2017 sono stati complessivamente 250.420 contro le 235.468 del 2016, con un incremento del 6,35%. Ma, commenta Piero Scutari, presidente del Centro Studi di Turistici Italia, non dobbiamo accontentarci dell'effetto numerico. Dall'analisi del Centro Studi, il numero di tutti i visitatori messi insieme nei 17 luoghi della cultura statale presenti in Basilicata, equivale a quelli di un anno alla Grotta Azzurra di Capri. È minore rispetto a quello dei visitatori di Pestum, o a quanti sono i visitatori in soli tre giorni a Pompei. Altro dato fortemente negativo è quello della permanenza media del turista nelle località lucane di turismo culturale, a Matera non supera i due giorni, cifre che stonano rispetto ad un target specifico, il turista culturale, che, sottolinea Scutari, è più propenso a spendere 52 euro al giorno per l'alloggio in media e 85 euro per spese extra, contro i 47 euro per alloggio e 75 per gli extra di chi viaggia per ragioni non culturali. Tra i primi, per visitatori, si conferma il Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino, seguito dal Museo Nazionale dell'Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Matera. A seguire, il Museo archeologico nazionale di Metaponto e Bernalda è il Museo Nazionale della Siritide a Policoro. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il piano operativo annuale 2018, il progetto esecutivo relativo agli interventi di forestazione delegata al Consorzio di Bonifica. Lo ha reso noto l'assessore all'agricoltura Luca Braia, precisando che per un importo complessivo di 50 milioni di euro, già nelle disponibilità di bilancio, a cui si aggiungeranno 10 milioni di euro a valere sui fondi FESR, viene approvato il progetto unico esecutivo che riguarda tutte le platee funzionali al completamento della riorganizzazione del comparto forestare, che coinvolge oltre 4 mila famiglie lucane su tutto il territorio. Abbiamo oggi, a proseguito Braia, un unico sistema di governance con competenze di programmazione e controllo affidato al Dipartimento Agricoltura e progettazione, gestione e esecuzione delle attività nel comparto pubblico del settore idraulico forestale di competenza del Consorzio di Bonifica. Torniamo al Maratea Film Festival, prosegue la Kermes dedicata al cinema, ci attesa per la serata conclusiva con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria per Sofia Loren, i particolari nel prossimo servizio. Quinta serata per il Maratea Film Festival, all'insegna del cinema mondiale. La Perla del Tirreno ha ospitato artisti dal calibro internazionale come Jean-Claude Van Damme e Isabella Ferrara. La serata è stata presentata da Claudio Guerini e Carolina Rey, ma il grande giorno è arrivato. Sarà Sofia Loren l'ospite più atteso delle giornate del cinema lucano. L'attrice, divenuta leggenda in tutto il mondo con capolavori come La Ciociara, oltre ad essere l'unica italiana ad aver vinto ben due premi Oscar, riceverà un prestigioso premio alla carriera. Ma non solo. Per l'occasione, nel teatro sul mare dell'Otel Santa Venere, le verrà conferita la cittadinanza onoraria della città di Manatea, direttamente dal sindaco, Domenico Cipolla, per essere stata incarnazione del riscatto del nostro paese, dell'Italia che risorgeva dalle tragedie e dagli infiniti dolori della guerra, della fame e dei bombardamenti, diventando l'attrice italiana per antonomasia. Riconosciuta dallo star system hollywoodiano quale magnifica esponente dell'arte cinematografica, che la portò a girare lungometraggi in tutto il mondo, divenne diva, sapendo però trasformarsi nella grandiosa rappresentante di un'Italia laboriosa, affascinante e bella. E proprio a Manatea, circa 150 giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, provenienti da ogni parte d'Italia, arriveranno domani per partecipare alla 35esima settimana, Quarenghi, un'iniziativa del Movimento per la Vita, un evento per approfondire temi come la bioetica, l'eutanasia, la maternità e il lavoro, le politiche familiari delle imprese. Stagione Teatri Uniti di Basilicata, Rhapsody è il titolo dello spettacolo, andato in scena a Marconia di Pisticci, nell'Anfiteatro Romano, un mix di musica, gestualità e gag. Vediamo i particolari nel servizio di Rocco Romanelli. Un titolo mai così eloquente, Rhapsody è come il mix esplosivo di musica classica e leggera, operetta uniti all'ironia e alla gestualità dissacrante, distorcere, rompere, rivisitare e aggiustare brani famosi, illustre noti, glorificandole, reinventandole con gag ed espressioni nuove. L'effetto è di immediato stupore, di rompente, mai dissacrante. Rhapsody è il titolo dello spettacolo andato in scena al centro dell'Anfiteatro Romano di Marconia di Pisticci. Sulla scena il mezzo soprano donna Olimpia insieme ad artisti di grande talento che hanno reinterpretato l'opera, l'operetta, la musica classica e quella leggera. Rhapsody illustra il senso di questa performance nella quale la musica si sostituisce alle parole per esprimere la vasta eco dei sentimenti umani che trascina il pubblico nel vorticoso magico potere delle note. E adesso passiamo allo sport, serata storica per il Picerno che esordirà nella nuova stagione e lo farà in Team Cup. La formazione Melandrina affronterà stasera al Pintola Casertana, formazione di Serie C. Per i Lucani si tratta di una partita da vivere intensamente a prescindere dal risultato finale, vista la differenza di categoria e la qualità tra le due squadre. L'obiettivo dell'undici di mister Giacomarro è quello di provare a fare bella figura contro Falchetti. Negli scorsi giorni il neotecnico approfondito dell'amichevole contro la Virtus Francavilla per provare il modulo, probabile il sistema di gioco che più utilizza il 3-5-2 che potrebbe mutare in 4-4-2. Sarà per Giacomarro anche un ritorno in una piazza che gli è rimasta dentro nel 1991, fu uno dei protagonisti della promozione in B dei Falchetti. Ciclismo, Tour de France, Domenico Pozzovivo, vicinissimo alla mini-impresa, essere il miglior italiano nella stessa stagione al Giro e al Tour, vent'anni dopo Pantani. Ieri quattordicesimo all'arrivo nell'ultima tappa a Pirenaica, il Lucano è ora diciottesimo nella generale e potrà difendere i circa 5 minuti di vantaggio su Damiano Caruso, ventiseiesimo in classifica, oggi penultima tappa a 31 km a cronometro, domani passerella finale. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alla rubrica degli eventi. A Castellucci Inferiori inaugurazione della mostra Memorie Migrate alle 18.30 nel chiostro del Convento dei Padri Minori Osservanti, a Lavello in piazza Enrico Mattei e appuntamento con la ventiquattresima edizione di Mietitura e Trebbiatura. A Montescaglioso Notte Bianca 3.0 in via D'Alessio, via Garibaldi e lungo il Centro Storico. A Muro Lucano, prima giornata della sesta edizione del Festival della Canzone, ospiti Mario Rosini, Chicco Paglionico, Dazzelighe e Zulu dei 99 posse. A Rionero alle 18.00 al via La Notte Bianca con eventi culturali, divertimento, animazione e DJ set. Alle 24.00 in piazza 20 Settembre il concerto di Officine Popolari Lucane di Pietro Cirillo. A Brienza alle 20.30 in piazza Unità d'Italia si presenta la raccolta di poesie e la corazza di Ettore di Guido Lopardo. A Lago Pesole, dalle 20.30, terza giornata del Castle Beer Festival con la Brexit Band e Pier Vito Grisù in concerto. A mezzanotte il disco Sotto le Stelle con DJ Zegg. A Maratea, decima edizione della Carmes Cinematografica, le giornate del cinema, ospite Sofia Loren. A Castelmezzano, in piazza Caizzo, giornata inaugurale della prima mostra Mercato del Tartufo Lucano, si replica il giorno successivo. A Baragiano Scalo, alle 21.30, cover band di Pino Daniele, Pino a metà. A Bella, alle 20.30, nel campetto municipale, il nono festival di danza con la partecipazione del trio La Ricotta. A Potenza, a Sant'Antonio Lamacchia, il Woody Group Festival. Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo. Noi insieme diamo uno sguardo alla tendenza per il fine settimana perché l'alta pressione è in rinforzo sulla nostra penisola. Il sole, che non mancherà anche la mappa delle precipitazioni, ci fa vedere solo verso sera qualche spot temporalesco sull'Arco Alpino, il Piemonte Occidentale e alcune zone montuose del centro-sud. Ma altrove veramente poco da segnalare. Grafica della nuvolosità con cieli in gran parte, sgombri da nuvolosità, solo qualche nube alta di passaggio sul nostro settentrione. E infine l'ultima grafica, più che altro per vedere le temperature perché sarà una giornata di piena estate, punta anche di 35 gradi sull'Emilia Romagna. Eccoli qui i temporali di calore sulle nostre montagne. Dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Eccoli qui i temporali di calore sulle nostre montagne.